Bentornati, allora per questo benedetto centenario pucciniano è da tanto tempo che sto pensando a qualcosa ovviamente ho tenuto in grande considerazione quello che avete scritto nei commenti, sulle richieste come faccio sempre ho letto quasi tutte le richieste però volevo dare comunque a questo video, mi sono preso appunto la possibilità di poter arrivare fino a fine anno prima di farlo uscire, un taglio un po' particolare perché tante richieste erano sicuramente interessanti ma tutto sommato riguardavano una serie di aspetti di cui si sa già più o meno tutto e alcune opere di cui il decorso, lo sviluppo, il trionfo e tutto l'andamento è ormai cosa nota quindi ho preso poi spunto da alcune sollecitazioni, alcune idee che mi hanno dato alcuni di voi per parlarvi della rondine, cioè dell'opera forse meno conosciuta di Puccini che ha avuto veramente una storia, una genesi un po' particolare perché particolare è il periodo della vita di Puccini in cui la rondine è stata scritta allora, negli anni che vanno dal 1908 al 1916 indicativamente Puccini si trova in difficoltà ha una serie di problemi, non tanto di lavoro, nel senso comunque è un compositore stimatissimo molto richiesto e molto pagato, quindi guadagna anche cifre molto importanti però forse come tutti i compositori di successo poi può arrivare una fase in cui si è un po' viziati si è un po' annoiati e si cercano stimoli nuovi allora, quali sono questi anni di crisi di Puccini? gli anni, appunto, che vanno dal 1908 diciamo al 1916 o alla fine della guerra che tipo di crisi sta attraversando Puccini? in un certo senso una crisi creativa, nel senso nel 1910 scrive La fanciulla e l'Ouest che è un successo molto grosso ma non altrettanto duraturo poi ci sarà la rondine, appunto poi ci sarà il trittico che è sicuramente un capolavoro su questo non si discute ma solo con Turandotta arriverà come dire la zampata finale perché fondamentalmente i problemi sono diversi innanzitutto Puccini è perennemente alla ricerca di un libretto che lo stimoli che lo incuriosisca che lo ispiri nel tema sintesi e questa cosa fa sì che lui incontri un sacco di librettisti si faccia raccontare un sacco di storie un paio di casi anche accenna a iniziare a scrivere qualcosa ma poi alla fine nulla lo convince lo convince veramente l'altro problema è un problema musicale nel senso Puccini è quel grandissimo compositore che tutti conosciamo e che tutti ammiriamo ancora oggi ha cent'anni appunto ha cent'anni di distanza però è un compositore abbastanza intelligente da rendersi conto che è un compositore superato perché negli anni in cui lui si ostina e meno male che si è ostinato a farlo a scrivere le opere col suo linguaggio comunque un linguaggio fortemente tonale sono gli anni in cui la musica sta cambiando radicalmente la musica del novecento lui questa cosa la sa benissimo sa benissimo di essere superato dal punto di vista musicale però dall'altro lato lui non ama questa nuova musica che sta arrivando va affronta anche dei viaggi per andare ad ascoltare le composizioni di Schoenberg per stare come dire aggiornato ma non rimane particolarmente colpito e la riprova è che tutta la musica che scriverà da questo periodo fino alla fine dei suoi giorni una quindicina di anni dopo quindi non c'è nulla non c'è traccia ecco di questa di questa nuova musica che sta ormai imperversando in tutta Europa in più una delle ragioni per cui Puccini in questi anni è in crisi è che è l'episodio forse lo ho conoscete della morte di Doria Manfredi chi era Doria era la figlia di un suo conoscente che è alla morte di questo di questo conoscente lui per aiutare la ragazza per aiutare la famiglia la prende a servizio in casa sua una ragazzina ha 14 anni e niente lavora come 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 donna di servizio presso la casa di Puccini a 14 anni è anche abbastanza ben vista e ben voluta ma cresce e diventa molto carina e la moglie di Puccini comincia a diventare molto gelosa e ad onore del vero dobbiamo dire che queste gelosie continue queste crisi e spesso queste sfuriate gelosie che gli faceva la moglie erano ampiamente ampiamente giustificate perché insomma è storicamente noto che Puccini avesse tantissime tantissime amanti però la moglie se la prende in particolare con questa povera con questa povera ragazza un giorno li vede confabulare in maniera insomma un po' sospette diciamo così e nell'ennesima appunto crisi di gelosia la caccia via la mette in mezzo a una strada insomma i tempi non è che c'era il TFR il previso la causa il giudice del lavoro ecco esci da questa casa non ti voglio più vedere quindi la mette praticamente in mezzo a una strada la ragazza ha 16 anni e per lei insomma subisce subisce molto questa cosa che succede ma la cosa dell'episodio non finisce lì Puccini non riesce in alcun modo a convincere la moglie insomma che non c'è niente tra di loro cosa che peraltro era vera perché in realtà lui aveva un afferra con la sorella maggiore di Doria e quindi spesso utilizzava Doria come messaggero come veicolo di messaggi e quindi probabilmente il giorno che la moglie li ha beccati a confabulare probabilmente lui li stava dando i messaggi per la sorella quindi oggettivamente non c'era mai stato niente tra lui e la ragazza ripeto che ai tempi aveva 16 anni comunque la moglie ancora continua a perseguitare diciamo così questa ragazza anche pubblicamente insomma scenate in pubblico le dà della poco di buono finché questa povera ragazza non regge più la vergogna di questo di questo trattamento si avvelena e passa 5 giorni in agonia in ospedale e poi muore alla morte di questa ragazza che ovviamente Puccini percepisce come una tragedia immane guai se non fosse stato così cioè comunque si sente anche se indirettamente responsabile della morte della ragazza e oltretutto insomma la moglie rischia anche grosso proprio dal punto di vista fisico perché tanti in paese insomma l'agrediscono anche fisicamente insomma quasi un tentativo di linciaggio insomma perché ovviamente tutti sanno il motivo per cui la ragazza si è suicidata e comunque si insomma poi questo si cercherà di mettere a tacere la cosa con una grande somma di denaro insomma alla famiglia la famiglia della ragazza e per evitare insomma che sporgessero che sporgessero le denunce sta di fatto anche questa ragazza 16 anni si suicida oltretutto l'autopsia ci conferma che era illibata e che quindi di tutte le donne tra tutte le donne per cui la moglie di Puccini aveva pieno diritto e piena ragione di essere geloso in realtà questa povera ragazza non c'entrava assolutamente niente però questa la morte di questa ragazza influirà pesantemente sulla psiche di Puccini appunto che si sentirà poi per tutti gli anni che gli rimarranno fondamentalmente responsabile la morte della ragazza e io non credo che sia un caso che questa ragazza si chiamava Doria poi la protagonista della Roni si chiama Doretta ecco se diciamo che sia una coincidenza mi sembra una coincidenza un po' curiosa quindi probabilmente non è una coincidenza stante il periodo quindi la nuova musica e tutto quello che sta succedendo il successo ma non duraturo di fanciulla del West arriva un'altra tegola sulla sulla vita di Puccini e non solo sua cioè la guerra nel 1914 c'è l'inizio della prima guerra mondiale il primo anno probabilmente lo sapete l'Italia resta fuori dalla guerra infatti la guerra è del 15-18 ma in realtà è del 14-18 e si pone una serie di grossi problemi per Puccini problemi come dire di schieramento allora Puccini è sempre stato notoriamente filogermanico allora facciamo un passo indietro Puccini non si è mai interessato in maniera attiva di politica ok però è filogermanico nel senso che sicuramente ama apprezza e rispetta la cultura germanica la musica germanica ovviamente ma è anche filogermanico perché la sua musica in Austria è molto molto eseguita quindi c'è anche una ragione banalmente banalmente economica perché lui è molto legato diciamo al mondo germanico e quindi nel momento in cui scoppia la guerra lui non sa esattamente bene da che parte stare professa la sua neutralità ma tenete presente che i tempi la neutralità non era come dire vista come potrebbe essere vista oggi come un ripudio della guerra in quanto tale perché al contrario erano gli anni degli interventisti in cui c'era proprio un movimento politico diciamo così o quantomeno di opinione pubblica fortemente favorevoli all'ingresso dell'Italia in guerra e ripeto benché Puccini professi la sua neutralità ci sono altri compositori tra cui Leon Cavallo che invece sono ferocemente interventisti Leon Cavallo che tra l'altro lui non amava praticamente né come persona né tantomeno come musicista non per niente lui lo chiamava Leon Bestia in tante sue lettere lo definisce Leon Bestia insomma questa dimostrazione che non c'era una grande stima ma non è una supposizione insomma i commenti che spesso ha sciapri scritto su Leon Cavallo non sono particolarmente losinghieri e quindi poi cosa succede che per tutta la guerra Puccini si barcamena e alla fine della guerra alla fin fine si troverà ad essere un compositore ormai superato ripeto superato dalla nuova musica che lui stava che stava arrivando in tutta roba che era già arrivata in tutta roba in realtà ma anche il pubblico ama più le sue vecchie opere che non che non le che non che non quelle nuove e quindi c'è come dire più un attaccamento nostalgico ai tempi che furono che non un apprezzamento artistico per il Puccini per il Puccini del dopoguerra in più nel 1912 rispetto a questi sono anni problematici come detto c'è un altro problema che affligge diciamo così la vita artistica di Puccini cioè la morte di Giulio Ricordi del suo editore il suo editore storico insomma a cui lui doveva buona parte del successo che aveva avuto muore Giulio Ricordi e il suo posto viene preso dal figlio Tito detto anche Tito II per distinguere dal nonno Tito Ricordi nonno e i rapporti con Tito Ricordi sono veramente negativi sono non voglio dire pessimi ma sicuramente i due non si stimano e non fanno neanche tantissimo per per fingere insomma ecco e in particolare Tito Ricordi spesso e volentieri non le manda dire e fondamentalmente ritiene Puccini un compositore finito dal punto di vista artistico dal punto di vista musicale e quindi fondamentalmente è in dubbio se continuare a investire grosse cifre di danaro della casa editrice nella futura produzione di quello che secondo lui ormai è solamente un grande compositore del passato in più terminano i rapporti con i suoi due librettisti storici Giacosa e Illica Giacosa passa miglior vita e quindi la risolviamo così Illica invece è un altro di quelli fortemente interventisti e quindi come dei rapporti fra i due inevitabilmente si prima raffreddano e poi si interrompono ed è fatale quando ci sono scelte di campo così determinanti e così così importanti e si sta da una parte o si sta dall'altra quindi nella sua vita incrocia come librettista Giuseppe Adami che poi scriverà appunto il libretto della rondine Adami che è un buon librettista ma la prima principale è che probabilmente non è librettista giusto per questa fase della vita di Puccini è molto asservito è molto prono a tutti i capricci a tutte le richieste di Puccini non lo stoccolerebbe mai non lo prenderebbe mai di petto e in certi casi in passato alcuni scontri con alcuni librettisti lo avevano portato anche a dei grandi risultati artistici come spesso capita invece Adami si limita esclusivamente e pedissequamente a eseguire le volontà di Puccini quindi come dire non c'è un grande scambio artistico fra i due ecco c'è uno che fa una richiesta e l'altro che ne esegue stante quindi come ho detto prima i rapporti molto raffreddati con Tito Ricordi un po' per vendetta un po' per forse per farlo ingelosire Puccini flerta con degli editori austriaci che li propongono di scrivere un'operetta l'operetta probabilmente lo sapete è con la forma con la forma musicale di argomento leggero comico anche in certi casi comunque non drammatico non muore nessuno l'operetta che alterna parti cantate a parti a parti recitate gli editori austriaci quindi propongono a Puccini di scrivere un'operetta appunto da rondine lui approva la trama alla fine la cosa lo convince e anzi benché come dire la commissione parta dall'Austria si decide che il libretto verrà scritto da Dami e solo successivamente verrà tradotto in tedesco quindi come dire si dà la paternità intellettuale di questo di quest'opera totalmente agli autori agli autori italiani e quindi l'opera appunto dovrà essere poi rappresentata da Vienna e verrà veramente tradotta in tedesco in origine l'opera alternando appunto parti recitate a parti cantate non aveva tantissimi numeri musicali Puccini però ne scrive un paio dopodiché non è più convinto del progetto come ho detto sono anni di dubbi anni di dissidi anni di incertezze e quindi scrive un paio di bagni e chiede agli editori di di essere esonerato insomma di sciogliere il contratto che avevano che avevano firmato gli editori che nel frattempo ovviamente avevano dato anche un congruanticipo e Puccini manteneva una vita molto dispendiosa e molto molto agiata quindi insomma aveva benché guadagnasse cifre astronomiche insomma per mantenere il suo standard di vita insomma aveva sempre bisogno di soldi quindi anche in questo caso appunto c'era stato un grosso esborso di denaro come anticipo quindi ovviamente gli editori dicono no quel cavolo che 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 ti facciamo che ti facciamo rescindere il contratto però gli consentono di trasformare l'operetta in un'opera e forse pensando in questa maniera in parte probabilmente è anche vero che Puccini si sarebbe trovato un pochettino più a suo agio con questo scrivere un'opera e non un'operetta all'inizio tutto sommato Puccini è appunto come ho detto è favorevole gli piace l'idea di scrivere quest'opera perché lui la vede proprio una contraposizione con la durezza della musica appunto che sta che si sta ascoltando in tutta Europa e anche con la durezza dei tempi diciamo così un'opera leggera di argomento non drammatico e quindi insomma questa cosa questo progetto all'inizio lo lo convincerà salvo poi in diverse lettere scrivere che era una virgolettato solenne porcheria quindi in più di una lettera dirà insomma che ha sbagliato a scrivere quest'opera insomma che non era venuta particolarmente bene cosa fa allora siccome i diritti dell'area austro-ungarica diciamo così sono ovviamente editori degli editori vienesi editori austriaci cucini prossimi saranno invece i diritti per l'Italia per gli Stati Uniti e per altri e per altri paesi e come dire propone a Tito Ricordi di prendere lui questi diritti perché comunque bene o male insomma avrebbero dovuto portare degli introiti abbastanza abbastanza importanti ma Tito Ricordi dimostra per l'inesima volta la scarsa convinzione che ha nei lavori che fa Puccini in quegli anni e in una lettera scrive addirittura che non ci pensa neanche a prendere la musica di un virgolettato cattivo Lear Lear per chi non lo sape sapere è l'autore della Vedova Lega forse il più importante compositore di operette della storia probabilmente in questa fase quindi interviene Sonzogno che era un altro editore molto importante un po' più piccolo di ricordi ma comunque un editore di quelli grossi e acquisisce lui diritti togliendo quindi anche Puccini da un problema come dire operativo nel senso sì è vero che lui aveva riservato a se stesso i diritti dell'Italia dell'America e di altri paesi ma poi lui non era un impresario non era un editore era un compositore e quindi non avrebbe saputo come gestire questi diritti ci voleva ovviamente la figura di un professionista del settore quindi Sonzogno e questa è la ragione per cui La Rondine è l'unica opera di Puccini che non è stata pubblicata da ricordo ma da Sonzogno che tra l'altro era l'editore anche di Mascagni di Loncavallo e di altri compositori di quel periodo e quindi a un certo punto durante la guerra Puccini si trova un po' tra l'incudine e il martello perché i giornali tedeschi tendono a criticare la sua la sua neutralità e dicono fondamentalmente come si si ama il mondo tedesco ama il mondo tedesco ma non prende una posizione quindi fa un po' come dire l'ignavo diciamo così e quindi diversi giornali tedeschi invitano il pubblico a boicottare le sue opere questa cosa per Puccini è estremamente grave perché vuol dire ovviamente un fermare la valanga di introiti di cui lui ripeto aveva bisogno perché per mantenere la vita che faceva insomma e quindi in questo suo rifiuto per la guerra non c'è esclusivamente anzi c'è solo marginalmente una una scarsa condizione una scarsa convinzione su quanto si è brutta la guerra ma è proprio una questione del fatto che avere una guerra vuol dire avere i teatri chiusi e quindi fondamentalmente non guadagnare per la stessa ragione Leoncavallo che appunto era come detto un audace interventista un fervente interventista viene boicottato e le sue opere non vengono più non verranno più rappresentate in Germania per parecchi anni in più negli stessi anni Leoncavallo scrive nel 15 se non sbaglio vado a memoria un inno alla Francia un brano d'occasione per manifestare proprio così in maniera aperta e palese le sue le sue simpatie e il suo supporto allora Tito Ricordi dice guarda perché non scrivi anche tu una roba del genere e Puccini rifiuta non ha torto da molti punti di vista perché da un lato gli sembrerebbe veramente un prendere a questo punto la posizione al di fuori della sua neutralità e quindi se prendo posizione anche io un inno alla Francia o un qualcosa a favore dei francesi e ovviamente mi gioco tutti i teatri tedeschi evidentemente dall'altro lato dice l'ho già fatto Leoncavallo che in più ripeto lui stimava zero io sarei anche il secondo come dire farei una copia di quello che ha fatto quell'altro quindi proprio gli sembra che sia una cattiva idea e in effetti non sarebbe stata una buona idea per cui insomma questa però è l'ennesima dimostrazione dello scarso feeling che c'era tra lui e Tito Ricordi nonostante questo lui fa una serie di atti anche pratici di filantropia per esempio destina tutti gli introiti di un anno intero della presentazione di Tosca che vengono fatti a Parigi ai feriti di guerra che comunque insomma era una cifra una cifra importante in Italia viene fatta una una raccolta di musiche i cui introiti andranno a Crocita Rossa italiana e lui scrive una di queste musiche insieme ad altri ad altri ad altri compositori insomma quindi senza chiedere alcun compenso e sempre sul libretto di Dami ho trovato una lirica per tenore e pianoforte e in più rinunciando ai diritti di autore che appunto vanno alla Crocita Rossa quindi come dire fa una serie di di gesti anche patriottici almeno per quello che poteva essere la visione del tempo però fondamentalmente il pubblico né da una parte né dall'altra e non gli perdonerà una certa sua ignavia un certo suo cercare di barca menarsi senza prendere una posizione chiara e quindi i tedeschi lo boicotteranno perché diranno come fare le cose per i francesi i francesi dall'altro canto quando verrà eseguita la rondine qui a Monte Carlo diranno come qui a Monte Carlo che comunque considerata Francia anche se a formamento lo è ma diciamo che sicuramente è territorio di influenza francese e dicono come rappresentiamo qui a Monte Carlo l'opera un'opera commissionata dagli austriaci quindi dal nemico quindi che facciamo sembra un po' un controsenso e per certi versi lo è insomma quindi vedete che veramente Puccini si trova tra l'incuidi del martello e forse cerca di barca menarsi cerca di dare un colpo al cieco e non la botte ma oggettivamente senza grandi risultati anzi rischiando di inimicarsi entrambe le parti non prendendo una posizione chiara ed altronde che lui ne dica in diverse lettere in cui dice ma insomma questa è stata una commissione anzi a Monte Carlo è stata la prima perché riconoscimento la musica francese eccetera eccetera in realtà la rondine è un brano che insomma è un brano è un'opera che sprizza viennismo diciamo così da tutti i pori insomma quindi è una musica chiaramente di ispirazione austriaca e cosa che se oggi ci sta benissimo ovviamente durante la guerra capite bene che era una cosa che poteva creare dei problemi ai teatri e ovviamente più che altro al compositore perché molti teatri si sarebbero rifiutati di metterla in scena e quindi fondamentalmente la rondine da quando viene composta fino a pochi anni fa resta resta un qualcosa di non ben definito una produzione pucciniana non ben definito perché parte come un'operetta poi diventa un'opera ma non un'opera drammatica non definito perché appunto il linguaggio è più un linguaggio come dire rivolto al valzere e un po' meno pucciniano da questo punto di vista poi c'è un altro problema che l'editore appunto è Sonzogno Sonzogno è un editore importante potente ma non è Ricordi e quindi in dubbio che dal punto di vista della diffusione che dal punto di vista della promozione dal punto di vista appunto della possibilità di convincere i teatri a rappresentare quest'opera un editore della forza di ricordi era molto più potente di un editore della forza di Sonzogno con tutto che ribadisco era un grosso editore ma non era a livello di ricordi e allora cosa succede che fondamentalmente quest'opera attraversa una serie di fortune alterne e dico fortune alterne per non dire sfortune non riesce mai ad entrare nel cuore del pubblico Puccini in varie lettere dà la colpa dell'insuccesso una volta al direttore che non è stato bravo una volta i cantanti che non sono stati all'altezza insomma è un po' sempre colpa degli altri però insomma è in dubbio è in dubbio che che il pubblico percepisca quest'opera un po' come né carne né pesce in più ripeto in un momento in cui la musica sta andando in tutt'altra direzione e quindi a questo punto di vista musicalmente risulta un'opera non brutta tutt'altro perché quando uno quando sei Puccini in musica brutta non riesci a scrivere neanche se lo volessi però sicuramente è un po' un po' adattata ecco questo sicuramente e questa è la ragione per cui solo recentemente solo da forse una quindicina ventina d'anni sta cominciando a girare un po' di più nei teatri nei teatri d'opera e in particolare quest'anno col centenario diversi teatri l'hanno compresa la scatola l'altro l'hanno riproposta in cartellone per cui avete visto che il mio omaggio a Puccini è stato forse un po' diverso da quello che vi sareste aspettati forse avreste preferito un qualcosa di più inneggiante di più sannante ma ho cercato di fare una cosa non banale e di darvi magari un paio di spunti di riflessione che proprio perché è il centenario di Puccini sento poco dire in giro perché è normale si osanna il grande compositore che era e che ringraziamo il cielo di aver fatto nascere sulla nostra bella penisola però bisogna ovviamente tutti gli esseri umani hanno anche momenti difficili e anche fasi negative evidentemente è un artista in particolare anche della propria produzione e quindi ancorché io non ritenga la Rondi in un cattivo lavoro tutt'altro ripeto Puccini avrebbe potuto scrivere qualcosa di brutto neanche se l'avessi voluto il mio rammarico è che vivendo un po' di più qualche anno in più sarebbe stato un eccellente composito di colonne sonore di questo sono assolutamente convinto e avrebbe avrebbe veramente avuto ma non non dico più successo di quello che ha avuto perché insomma più successo di quello che ha Puccini da da cent'anni da più di cent'anni in questa parte non so se era possibile non so se è possibile pensarlo però ecco da compositori di colonne sonore e da appassionato di colonne sonore mi sarebbe veramente tanto piaciuto sentire una colonne sonora scritta a Puccini come dire la malattia e il tempo non gliel'hanno non gliel'hanno per me forse non l'avrebbe mai fatto neanche se fosse campato duecent'anni insomma però secondo me invece sarebbe stato un ottimo spunto bene scrivete nei commenti che cosa ne pensate di questa fase un po' decadente della vita di Puccini lasciate un like se vi interessa se non l'avete ancora fatto e volete iscrivervi al canale cliccando qua sopra e noi ci vediamo al prossimo video non mancate grazie a tutti